Il treno regionale 36193 di Trenitalia, proveniente da Montebelluna e diretto a Treviso Centrale, delle ore 21 a 27, è in arrivo a binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 36180 di Trenitalia, proveniente da Treviso Centrale e diretto a Montebelluna, delle ore 22, è in arrivo a binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni.